A Giulianova saranno circa 40 gli alberi pericolanti presenti sul territorio comunale che saranno abbattuti entro il 15 settembre. Gli interventi urgenti di manutenzione del verde pubblico sono stati affidati alla ditta che si occuperà dell'abbattimento degli alberi a rischio caduta, come segnalato dalla perizia dell'agronomo comunale nelle scorse settimane. È un lavoro programmato, ricordo alla città che il bilancio del verde del primo quinquennio dell'amministrazione Costantini si chiude con un segno positivo, a breve verrà pubblicato dai funzionari del Comune, con un attivo di 170 alberi rispetto al gap abbattuti e messi a dimora. Per me, per la città, è un grande successo, forse è un record riuscire a bilanciare gli abbattimenti con le messe a dimora, è preciso questo dato, è al netto dell'impianto di 3.600 piantine del progetto Alberi Italia a cui abbiamo aderito e vediamo Giulianova. L'importo totale per questi interventi è di circa 40.000 euro. Le aree interessate includono il Parco Franchi, il villaggio Marboro, alcuni tratti della strada statale 16 e via Filetto. I lavori dovranno essere eseguiti il prima possibile perché la preoccupazione è quella sempre del maltempo. Sì, in realtà con l'ultimo maltempo per fortuna non abbiamo avuto gravi conseguenze perché la gestione, lo dico incrociando le dita ovviamente, ha permesso di non avere grosse criticità, proprio perché andiamo verso un periodo più critico, quello appunto dell'ingresso verso l'autunno, abbiamo reputato opportuno intensificare questo servizio di potature e abbattimento anche con l'aiuto di un'azienda esterna.